Vabbè, tutto in teoria doveva iniziare così Volevo farlo iniziare così, però ho detto Vabbè, ma stavolta passiamo un attimo la mano e lasciamo perdere Parliamo effettivamente di quello che potrebbe essere questo rasoio Icon B1, molti di voi conoscono sul mio canale B1 Slent E questo invece è lo standard Te lo faccio vedere, ma adesso, dopo che hai preso visione in modo così veloce Ti faccio vedere un po' di immagini Ti faccio vedere come si presenta, quanto è carino, quanto è simpatico Beh, insomma, come stilisticamente anche è fatto e pensato E il dettaglio conta, mi raccomando Al di là del dettaglio c'è un discorso di pesi Adesso vedrai sicuramente il bilancino che ti dice esattamente quanto pesa sto rasoio Allora, il manico Bulldog, che ormai già avete visto anche nel Veteran Ha un certo peso Però te posso dire una cosa, è talmente figo che non glielo puoi dire No, guarda, dai robetta Spam, pepem, 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 pepem Oh, pam, 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 non mi ricordo più Comunque è molto, molto, molto bello Però ho letto in giro che è molto Eh? Molto pronto Quindi oggi facendo Facendo una piccola chichilata con degli amici Mi hanno detto, provo a montare Feder Che fa? Gli dici de no? Gli devo dire sì Allora, a parte che voglio fare, diciamo, l'opposto Nel senso che oggi ho mirato con un rasoio che costa all'incirca 100 e passa euro E l'abbino con prodotti da fascia bassa Quelli che si trovano facilmente in giro e sono facilmente reperibili Ho selezionato però il sapone della Toja La Toja, la toga, la toglia, come da pare Non ha il tallo, ho uno stick Io non amo tanto gli stick Però il suo profumo tra gli stick che ho sentito e che posseggo io qua a casa È l'unico che veramente a me piace Poi, mi faccio aiutare dal Tuxedo Sempre della DS Cosmetics Ammazza, c'ho già problemi di tremolio E questa non è una bella cosa Feder, che ti ho fatto vedere che sarebbero le New Eye Styless Quindi abbastanza rigide E poi ti spiego perché vado a scegliere appunto Comunque avrei scelto una lametta Styless Perché sono molto più rigide Anche se avrei magari azzardato con una bella Bolzano e Inox Ancora meglio E vado a concludere poi con il Denim È l'uomo che non devi chiamare mai Anche se t'affetti mezzo viso non devi chiamare i soccorsi Dei soffri in silenzio È una delle profumazioni che, diciamo così, mi piace un po' di più Perché dico mi piace un po' di più rispetto alle altre Perché comunque avendo avuto poi la possibilità di provare tanti altri prodotti Con fragranze veramente strepitose Purtroppo, ahimè, il naso si è abituato a, non dico a un certo livello Ma a un livello differente di fragranza Quindi anche qualitativamente Non disdegno il prodotto che c'ho sotto mano Anche perché c'erano 6-7 de Denim Tutti diversi Non dico che li colleziono Però mi ricordano comunque sia il passato Il passato di quando ero bambino Allora, che te volevo dire? Ragioniamo un attimo su lui Beh, insomma, pettine chiuso Spero che vada a sfatare quel famoso mito Che ancora piano piano circola Nella beata, tra virgolette, permettimi di dirlo Nella beata ignoranza Che un pettine chiuso non è Non possa essere aggressivo Come un pettine aperto Assolutamente no Te fa male ugualmente Perché tutto sta appunto nel gap Ma non perdiamo se d'animo Andiamo subito a montare la metta Perché sennò ci stavamo 3 anni Allora, piccole operazioni Poi spero che ti sia piaciuta la diretta Che ho fatto ieri Io l'ho fatta un po' così al volo E ripeto Ogni venerdì in teoria Io dovrei trasmettere in diretta Salvo complicazioni Perché in questa settimana Non ci sono stato a casa E sappiate bene Se è bene che quando faccio Questi piccoli montaggi video Comunque Il tempo se ne va via E ci impiego parecchio tempo Perché mi piace Perché li faccio così Perché mi piace Farti gustare un video Più digeribile possibile Almeno questo penso io Allora, inserimento della lametta Cosa molto interessante Questa testina Come stai vedendo Ha dei quattro piccoli Diciamo così Pin che vanno a Serrare In qualche modo La lametta La testina mi ricorda Vagamente quella della giletta Dei vecchi rasoio di giletta E appunto Anche essa Ah Senti come parlo oggi Anch'essa Ha delle piccole Scanolature Appunto Per accogliere Quei famosi pin Che vanno a trattenere E a stabilizzare E a stabilizzare La lama Ok Se senti qualche rumore fuori Non ti preoccupa Perché Se sta rimettendo Un'altra volta Al cattivo tempo E non ce la posso fare niente Allora Come faccio Su quasi tutti Quanti i rasoi In fase di serraggio Quando vado a chiudere Comunque sia Vado a bloccare Bene con il manico La testina E la barra di sicurezza Controllo sempre Che la lama Sia Almeno per me A vista d'occhio Abbastanza allineata Ok Eccolo qui Dimmi se non ti fa paura Una cosa del genere Ma più che altro Aspetta Te la faccio vedere qua Che è meglio Aspetta Guarda bene Non c'è nessuno Stai vedendo Cioè Questa è nightmare Questa è la A parte la sporgenza Che non conta In queste rasoi Conta fino a un certo punto Non è Come magari Molti pensano Quando iniziano Che la lametta Si allunghi La lametta è sempre quella E' appunto Il discorso Che se la lama È molto esposta C'è il rischio Delle vibrazioni Perché ogni volta Che il pelo Viene tagliato La lametta Si comporta Esattamente Come se fosse Un disco Quindi Quando tu passi Sul pelo Il pelo Fa da puntino Sono ritornati Gli zippetti Degli anni 90 Oggi Da stamattina Che mi sento Girare Sono contento Però Già mi hanno scassato Perché Negli anni 90 Qua era tutto Tutto il giorno Così Guardi Dai Un zippetto Che gli dice no Comunque Dicevo Flette parecchio Quindi Più il coprilama Va a coprire Appunto La lametta Meno movimento Crea Questa proprio qua La passavo E Il gap Comunque Si è abbastanza E accentuato Però non mi perdo In altre chiacchiere E vado subito Ho un montaggio in viso Perché oggi Ipoteticamente Sto facendo Una sbarbata Da vacanza Da viaggio Da aereo Da treno Insomma A treno Con sta roba E aereo Non mi fiderei più Da tanto Me la farei Una volta Sceso a terra Quindi Tuxedo Lo vado a prendere Perché per me È uno dei quei sintetici Medio morbidi Molto più morbido Rispetto ai nostri Italiani Eyebrush Punto di vista mio Però allo stesso tempo È abbastanza Rigido Per poter andare Prelevare il sapone Appunto Un sapone Fatto in stick Come puoi ben vedere E Per farlo lavorare Aspetta Fammi lavar il viso Prima perché Sennò faccio L'impiccio Non uso Prebarba Oggi Niente Di niente Non riasciugano Sono cose Di acqua Ah Il tuo barbone C'è andato Le lato Andato Rolto Aspetta Cosa Cosa importante Mi sono dimenticato Di dirti Comunque Se ti interessa Il rasoio Magari pensi Di Ipoticamente Di acquistarlo Può trovare Anche sul mio sito Ma no Quello che vedi Sempre Non mi ricordo Se è qua O della Lo trovi Allora Iniziamo Tuxedo Mo te faccio Vede come io Monto Poi ognuno C'è la sua scuola Di pensiero C'è chi se lo spalma Così Sinceramente Io previsco Più col pennello Perché Fa troppa resistenza E me da fastidio Quindi Io vado A stringere il nodo Per me Ho un'operazione Molto scomoda Dico la verità Previsco più un tubetto In viaggio Che lo stick Ma è questione Dei gusti E non mi metto A far chiacchiere Di altre cose Allora Perché il problema Che ho notato Almeno io Nella mia ignoranza Per quanto riguarda Il prelievo Dei stick Dei saponi stick E il quantitativo Adesso Io ho portato via Questo minimo Quantitativo Ammazza se è rigido Maga L'hanno già stato Però il profumo È veramente buono Guarda Mi ricorda anche Quella della crema Perché La toga La toga Ne fa due Me sembra Quella rossa Appunto Come questo qui È una Sul Non dico Marroncino Ma sul color Senape Allora Necessità Come sono Imbrattato Le mani Per quello Non preferisco Utilizzare Questi saponi Magari sarebbe Più conveniente Che uno Questo sapone Lo fa A pezzettini Prende la ciotolina Magari usata E lo va A ficcare A premere Dentro Appunto Una ciotolina Mazza Però Eccolo Qua Cosa Fatta cresce apposta La barba Anche perché Se faccio i video Tutti i giorni A parte Che poi Questo Lo dovrò Utilizzare Anche una barba Cortissima Che so Curioso Tanto Vediamo Se Sovravvivo A questo Evento Nefasto Se ci Riuscissi Visto Per me La mia Famiglia Icon È Aumentata Quindi Dal veterano Questo Più Il B1 E ci Ho Anche L'X3 Nord BMW Io Non so Se Divenia Piovere Ieri È passata La freccia Tricolore Perché Hanno Fatto Piazza De Siena Qua A Roma Stanno Facendo Concorso Ippico Dato Una Sfresciata Che Tu Neanche Ti Immagino Per È Scazzina Mi sa La quantità Che ho prelevato Di sapone È Abbastanza Irrisoria Ok Da pensare Un altro modo Per Farlo Lavorare Prima Sto Sapone Magari Bagnare Un po' La punta In modo Tare Che Possa Essere Un po' Più Un po' Più Reattiva Diciamo Così Non sto Bene Allora Andiamo a mettere Un po' Veramente Di Blindatura Saponi Saponiera E tanto Non riesco Con Dei Termi Che Penso Che Dante Se Rigiri Nella Propria Tomba Però Fa Parte Del La Vita C'era Niente Allora Usiamo Questo Bell Rasoio Ripeto Icon B1 Scusa Standard Vediamo Sto Standard Quale Vediamo Se Comporta Anche Con Risciacquo Se Se Vede Abbastanza Pratico E Veloce A Spice Lata Scusa Al B3 Giordano Lata Scusa Ad aspetta ma vi faccio prendere una cosa mi sta veramente piacendo guarda ma avvicino più che posso eh? figo eh? però mi prende un po' male quando mi taglio la barba da 4-5 giorni perché? ma che avevo mozzicato? qua? perché comunque ormai capito mi vedo contornato la barbettina anche se lo so poi c'è un viso ovale sembro un uomo di Pasqua ora so io che secondo me va utilizzato con tranquillità proprio spensieretezza cioè non correndo perché non serve io ripeto ripetisco che qua si mi sono pizzicato ma qua ho fatto un errore io qua mi sono pizzicato perché l'ho l'ho girato e l'ho sentito allora beh mica male eh vedi? qua mi sono pizzicato allora anche perché per me se fate i passaggi abbastanza corti riesce ad andare molto più preciso saponcino da pochi euro guarda veramente strepitoso veramente strepitoso io provisco più la sto morendo di sanguato provisco più la ciotola perché è molto più pratica rispetto a questo però effettivamente ho un ottimo lavoro quindi molta tranquillità riesce ad avere un ottimo risultato almeno in direzione del pelo pure qua poi aspetta il controvelo speriamo bene giustamente il discorso rasoio è una cosa personale tanti diranno ma io con quello ma io con quell'altro ma è giusto che sia così io do la mia valutazione personale a quelli che magari ancora sai sono indecisi o ci stanno a fare un pensierino con tutto uno si può fare la barba spadamo un attimo sto mito allora diciamo che in seconda passata sto notando siccome sono molto molto già liscio di fare movimenti circolari non me la sento riesco più da una spennellata un po' così da da pittore rispetto comunque a una carezza sto pennellino qua cioè carezza intesa anziana al sapone perché senza il sapone è un po' troppo rigidino qua mi ha morso in una maniera tale che la sto provando a sentire guarda non mi ha morso in una maniera tale che la sto provando a sentire guarda nel prima vina che ho finito guarda pazienza Alla prossima. Vado a levare l'eccesso di sapone e peli perché poi non puoi comunque sia vanno un po' a intasare, quindi preferisco... Non è a posto. Alla prossima. Amplimenti. Amplimenti roio. 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 E' bello perché è blu. però è una bella sensazione, non è male, mi sembra che dentro ci abbia un po' di muschio, un po' di gelsomino, un po' di ambra, un po' di paciuli, è particolare, però logicamente amico mio non è spiccato come i prodotti artigianali o di fascia un po' più alta, che poi snocciano tutte quante le varie fragranze. Vedi, qua ma 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 fottuto, pure un po' qua sotto, zona collo, io lo imputo in parte, non totalmente, in parte anche al discorso del sapone, però comunque sia tutto sommato, la barba me la so fatta, ma più di questo che io voglio dire, però comunque sono bello rosso qua sotto, ora si vede. Quindi, come giustamente molti di voi notano, quando sono prodotti qualitativamente superiori, il risultato è nettamente superiore, ti aiuta, c'è sta nienta a fare. Allora, niente, te ne ho parlato, sono contento di avercelo, ripeto, se ti interessa lo trovo anche sul mio sito, se non ti interessa non me ne frega niente, va bene così amici come prima. Ripeto, programmazione settimanale venerdì sera dopo le nove e mezza, sicuramente proverò a trasmettere, quindi ricominciamo un attimo a far partire questa nave, che è il mio canale. Noi ci aggiorniamo, anzi ci vediamo alla prossima e come dico sempre, buone sbarbate, buoni acquisti da Luca, ciao! Ciao!